Ciao mamma e papà, sono io, Christine. È il nome che mi avete dato. È bello, vero? Papà, questo è più per mamma. Ehi, mamma, ti sei emozionata la prima volta che hai guidato per Sacramento? Io sì. Volevo dirtelo, ma quando è successo non ne abbiamo parlato. Tutte quelle curve che conoscevo da una vita, i negozi e tutto il resto. Ci tenevo a dirti... Ti voglio bene. Grazie, io... Grazie.